Come non è possibile ipotizzare un ritorno all'economia e alla vita sociale degli anni 80 e 90, così non è possibile immaginare una situazione della sicurezza uguale a quegli anni. Così l'assessore alla sicurezza del Comune di Arezzo, Barbara Bennati, torna ad intervenire sul tema della sicurezza. Rispetto ai dati già pubblicati dalla nostra emittente in un intervento di sette giorni fa, come ad esempio le 87 telecamere del videocontrollo 38 nuove, 29 esistenti e 20 già collegate, l'assessore Bennati rimarca all'intervento della Polizia Municipale in Via Fiorentina, teatro qualche giorno fa, dell'ennesimo incidente mortale. Insieme alla comandante Valeria Meloncelli è stato concordato di potenziare dal mese di febbraio i servizi di pattugliamento. Fino ad oggi sono state circa 100 le violazioni al codice della strada, di cui 65 per sorpassi, mancato uso delle cinture di sicurezza e uso del telefonino. Per questo l'assessore fa un appello ai cittadini per un maggiore impegno nel rispetto delle norme. Ricorda poi l'incontro con gli esercenti che operano in piazzetta Sant'Adriano e poi San Zeno. Dopo l'assemblea di novembre a febbraio è previsto un nuovo incontro per rendere conto delle azioni intraprese in materia di sorveglianza e per presentare i progetti cantierabili.